Come ha detto liberate? Come ha detto liberati da tanti vincoli che abbiamo perché abbiamo bisogno che invece i comuni siano un motore dello sviluppo di questo paese, lo possono essere se vengono liberati dai troppi vincoli che ancora abbiamo. E quindi credo che questa assemblea dell'Anci anche con i riconoscimenti che arrivano da parte del governo sia un momento importante per l'azione dell'Anci e di tutti i comuni italiani. L'elezione di De Caro credo che sia un fatto positivo anche di continuità nel lavoro perché l'apprezzamento che tutta l'assemblea congressuale ha rivolto a fassino è significativo, ma nello stesso tempo l'assemblea congressuale ha giudicato estremamente positiva l'elezione di De Caro. Grazie. 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 Grazie.